Sì, è un'emozione fortissima perché abbiamo lavorato tanto e vedere realizzare un progetto così grande ci limpie veramente il cuore di gioia. La tenda sta per diventare realtà. Dopo un anno di lavori lo spazio ideato dalla Chiesa della Starza guidata da Don Fabio Di Martino e dalla comunità Tavor sarà inaugurato domenica sera alla presenza del Vescovo. La tenda, situata in via Sorripa, sarà il primo open space, il primo spazio di aggregazione per i giovani a Castellammare. Interamente gratuito sarà un luogo che ospiterà un doposcuola, un centro d'ascolto, un ambulatorio, uno studio psicologico, un ambiente versatile dove la sera saranno anche organizzati eventi con musica live. Per Don Fabio Di Martino è un sogno che si avvera, anche se è ancora impolverato, visto che gli operai stanno sistemando le ultime installazioni. È una struttura offerta a tutta la comunità, civile ma anche ecclesiale. È un'opera segno dove saranno offerti dei servizi sociali, ambulatorio medico, consulenza legale, doposcuola per i bambini, centro di ascolto, ma soprattutto un ritrovo per i giovani, un modo bello per stare insieme. Sì, certamente, apriamo già con una settimana molto impegnativa che è la settimana per la pace, dove vedremo avvicendarsi vari momenti dedicati agli adulti, alle famiglie, ai giovani. Poi ci sarà una programmazione in itinere che sveleremo nei prossimi giorni. Sicuramente qui troveremo sempre delle persone disponibili che in maniera ecogratuita offriranno il loro tempo per spiegare i servizi che saranno offerti e per accogliere le persone che chiedono informazioni.